E la giudice per le udienze preliminari di Trapani, Massimo Corleo, ha condannato a 30 anni di reclusione per omicidio a scopo di rapina Antonio Incandela. Il disoccupato 33enne reo confesso di avere ucciso il parroco della frazione trapanese di Umari, Don Michele Di Stefano, anziano prete di 79 anni. E la sacerdote, che per tantissimi anni era stato parroco anche a Fulgatore, altra frazione di Trapani, venne ucciso il 26 febbraio scorso all'interno della canonica della chiesa Gesù Giuseppe e Maria di Umari. Il pubblico ministero Massimo Palmeri aveva chiesto l'ergastolo per l'imputato. Il giudice ha però condannato in candela per omicidio a scopo di rapina ma senza l'aggravante della premeditazione. La sentenza è arrivata al termine di un processo lampo scaturito dalla scelta del rito abbreviato da parte del 33enne omicida. Scelta criticata dalla comunità di Umari che, massicciamente, assieme a quella di Fulgatore e da tutto il clero della diocesi, aveva preso parte ai funerali di Don Michele Di Stefano, fratello di un ex sindaco di Calatafimi. I parrocchiani auspicavano infatti un dibattimento pubblico in corte d'Assise per far luce su tanti aspetti ancora oscuri della vicenda, a cominciare dal movente. Antonio in candela, a tal proposito arrestato dai carabinieri poco dopo l'omicidio, dapprima aveva raccontato che nutriva rancore nei confronti del sacerdote perché non condivideva il contenuto di alcune sue omelie e successivamente aveva invece sostenuto di essere stato oggetto di attenzioni morbose quando era adolescente da parte del prete. Oltre ai 30 anni di carcere, in candela è stato condannato anche a risarcire i familiari dell'anziano sacerdote, costituiti si parte civile. Intanto l'avvocato Orazio Rapisarda, difensore dell'imputato, ha già annunciato ricorso in appello.